ragazzi allora manicure fatta in casa completata ora vi faccio vedere quello che mi ha fatto mio marito per ora mi sta viziando guardate che buona oggi c'è l'aggiunta di pesce pure in questa pasta con le cozze vedete vedete il pesce messo qui sopra naturalmente sempre fatto da mio marito questa invece è una ricetta che ho fatto io dunque ho tagliato le zucchine queste sono a rondelle adesso unirò un pochino di pomodorini mentre qui abbiamo qui sotto un bel filetto di orata filetto di orata ricoperto sempre con le zucchine però un tagliate con la grattugia a julienne quindi dopo i pomodorini qui metterò olio sale origano e andranno in forno quindi oggi pesce a pranzo e pesce a cena nel pomeriggio ragazzi avremmo una mezza idea di andare al cinema anche perché c'è una promozione che fino al 13 settembre il biglietto costa solo 3 euro e 50 però per quanto riguarda i film sono un po indecisa perché non c'è proprio una grandissima scelta ok ragazzi allora io vi saluto vi faccio dare un'occhiata alla mia finestra sul mondo si vede un mare stupendo spettacolare però abbiamo preferito visto che domenica non andare perché ci sarà molta confusione quindi con questa immagine io vi saluto vi do un bacio e vi abbraccio ciao a domani ciao a domani